Allora signori, è ufficiale, la RAI ha comunicato che non ci sono le condizioni richieste dall'Agicom per il confronto. Quindi il dibattito Meloni Schlein non si può fare. Spiace! Perbacco! Purtroppo credo che ormai sia impossibile trovare una data che vada bene per tutti, visto che le elezioni ormai sono tra pochissimo. Mannaggia. Ma a voi andrebbe di fare un dibattito tutti insieme? Ma mi piacerebbe. Ma certo, io lo farò senz'altro. Quindi volendo lo possiamo fare anche ora? Da chi? Come da chi? Non ho capito. Ora, lo facciamo adesso? Adesso? E certo, che problema c'è? Siamo tutti. Ma devono esserci anche Meloni e Schlein. Dobbiamo essere tutti insieme, Meloni compresa? Ma certo, Calenda, non si preoccupi. Sì, ma la Meloni dov'è? Guardi, sono arrivate proprio adesso. Eh, che non trovavano parcheggio. Oddio, adesso che succede? Ma come che succede? Succede che facciamo il dibattito, no? Vogliamo iniziare? Calenda, vuole iniziare lei? No, dico vuole iniziare lei, visto che è stato il primo a sollevare dei dubbi sull'imparzialità del dibattito. Guardi, questo non lo penso proprio. Ma come? Vabbè, Renzi, vuole iniziare lei? Lasci stare Renzi. Tagliani? Iniziamo da lei? Guardi, io sono fuori dai giochi. Ma come fuori dai giochi, scusi? Che deve fare? Io devo andare a prendere qualcosa. Ma dove deve andare, scusi? A Budapest. Ma cosa deve prendere? Pare che sia utile. Sì, ma cosa? Non so neanche io, veramente. No, scusate, ma vi state tirando indietro? Ma avete chiesto voi di fare un dibattito con tutti? Ma chi? Ministro, voi. Ah, noi niente, scusate, ci siamo sbagliati. Cioè, voi eravate tutti d'accordo e speravate di non fare il dibattito? Meloni, Schlein, anche voi? Sì. No, scusatemi, io ho prenotato questo studio per due ore per fare il dibattito. Cioè, che facciamo? Ci guardiamo in faccia adesso. E che facciamo? No, per favore, troviamo una soluzione. Ci sono! Siamo pronti al confronto. A chi tocca? Siamo qua da 14 mesi. Carlo, hai già giocato? Quanto? Ho preso il 7. E' a posto. Giorgia, manchi tu. Carica. Che c'hai il 3? Di più. Vai, carica, carica. Ma t'ho detto carica. Ma c'ho il 9, no? Niente, questi non sanno giocare a briscola.